Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, sono Freddy380 e oggi siamo su BebeRio2 Perché no, non bastava l'1 ma ha fatto anche l'2, il sequel La carta igienica Io sono un pro gamer, non è vero mai nella vita Ah, che gioco di merda Che gioco di merda Che gioco di merda E voi mi direte, ma allora perché ne giochi? Non lo so, perché mi hanno obbligato forse Quanto è bello ossidare le cose delle altre persone Il re del gioco ha ucciso il re del gioco Oh cazzo, potendissimo Cazzo, bene Ma io so quinta Non vedi ste bastardi Ho ucciso il re del gioco Ora sono io il re del gioco Ma veramente si spengono così poco il re del gioco 5 minuti fa ho visto un re che aveva 10 Io che so, io sono un re Va bene Cazzo Madonna, mi sono salvato per un soffio E chi è? Chi è che mi aveva conquistato la zona? Non ci provate Oppure io conquisto voi Come sto facendo con loro? Il prossimo errore Che cazzo vuoi? Mai spingersi troppo in là Ora sì che sono un degnore Qualcuno mi ha mangiato la zona Bastardi Pessimo errore ragazzi Ma sto spleccando schiena manetta oggi Lasciate stare i messaggi whatsapp Sorry Io conquisterò tutto il mondo di Cartolandia Sì perché questo qua In questo mondo si chiama Cartolandia Sì sì Sto giocando Giulio Mi potevo uccidere Non l'ha fatto Per quale motivo? Perché vuole conquistare la zona Cucciolo Mi ha ucciso Vabbè io guardo un video Taglio 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 ok Ok ragazzi Sono tornato Giusto? Tutto a posto vero? Mentre io ero svenuto Questi pastardi Mi hanno rubato l'aria Cazzi tuoi Cazzi tuoi Cazzi no Ti prego Ok ragazzi Dopo aver giocato un po' Mi sono rotto le palle Quindi andiamo a giocare qualcos'altro Se vi va bene No Anzi Io concludo qui questo episodio Io concludo qui questo episodio Con la carta genica Anzi Con la mucca Andiamo a vedere Facciamo una bella partitina Con la mucchetta E poi concludo l'episodio Se vi va bene Se non vi va bene Mettete dislike Grazie a tutti Grazie a tutti Ok ragazzi Ok ragazzi Io concludo qui questo episodio E ci vediamo in prossimo video Ciao 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 Grazie a tutti.